Ed eccoci qua cari amici ben ritrovati insieme, eccomi qua sono Marco Iacoviello con la maglia della Winners Conference, I am OG Traders, quindi veramente super gasato per fare questa nuova analisi domenicale dove andiamo a fare un po' il punto della situazione su questi mercati che veramente non smettono di stupirci perché abbiamo una volatilità veramente pazzesca, molto bella da tradare soprattutto per i trader, un po' meno per gli investitori, per questo periodo però arriveranno soddisfazioni sicuramente anche per loro naturalmente. Quindi oggi facciamo un po' il punto, prima vi voglio dare un po' di notizie per il mese di ottobre come community, come OG e soprattutto anche invitarvi al webinar di martedì alle ore 18 nell'academy di IG, andiamo a parlare un po' di trading soprattutto per chi lavora e magari ha poco tempo per poter fare questa attività, quindi non mancate, vi metterò il link qui sotto, sotto il video nella descrizione ci sarà la possibilità di registrarsi ore 18, io e Matteo siamo insieme con IG per svelarvi un po' tutte le tecniche che utilizziamo per poter fare trading in maniera eccellente anche se si ha poco tempo. Invece per quanto riguarda ottobre, ottobre sarà un mese decisivo perché come vi abbiamo detto stiamo per chiudere l'iscrizione a Trading Winner, ci manca ancora qualcosina, abbiamo già tradotto in lingua inglese il nostro sito, quindi oggi trading.it potete trovarlo anche in lingua inglese, siamo pronti al lancio international di oggi, manca ancora qualche dettaglio, quindi abbiamo lasciato aperte ancora qualche giorno le iscrizioni di Trading Winner, vediamo adesso come andranno le cose, però siamo veramente pronti a fare il salto definitivo a livello internazionale, grosse novità in arrivo, quindi allacciate le cinture e soprattutto cogliete l'offerta incredibile che avete ancora a disposizione perché Trading Winner vi dà il supporto a vita per il momento, poi da quando saremo ufficialmente international cambierà tutta l'offerta di oggi con un supporto che non sarà più a vita e gratuito, ma sarà via abbonamento. Comunque andiamo avanti, siamo qui per fare la nostra super analisi come sempre, mercati che si sono mossi in maniera molto forte, come dicevo qualche minuto fa, vi ho messo anche la scala un po' più grande già da settimana scorsa, fatemi sapere nei commenti se si vede ancora meglio e speriamo di sì, così i grafici sono belli chiari. Cosa è successo? Allora abbiamo una Fed che naturalmente va avanti con le sue politiche restrittive in questa fase, rialzando i tassi, c'è una riunione non pubblica ma privata nel senso della Fed. In queste prossime ore credo che da lì uscirà qualche cosa, qualche spunto interessante, non c'è, non ci dovrebbe essere nessuna conferenza speciale come ho sentito dire in giro, questo da quanto abbiamo appreso dalle news. Quindi vedremo un po' quello che succederà, sicuramente sarà una settimana ricca di eventi, perché mercoledì c'è l'ADP, venerdì invece si parlerà di payrolls, quindi andremo a vedere un po' come l'economia si è mossa nel mese scorso, ma soprattutto anche la BCE che è impegnata un po' a cercare di risolvere tutti questi guai a livello europeo, con un gas che è ancora in aumento e che non fa dormire sogni tranquilli a tutta l'Europa. Quindi c'è stata anche con Putin nuovi attacchi verso l'Ucraina, ma soprattutto anche i gasdotti lì a nord dell'Europa, quindi vedremo un po' perché la situazione si sta iniziando a scaldare parecchio in queste settimane, motivo anche per cui i mercati hanno ritracciato ancora in maniera massiccia. Andiamo avanti però col gold, gold che ha recuperato qualcosina, forse anche un po' vittima del dollaro che ha mollato un po' la presa, il gold viene subito su, vediamo se farà un po' da bene in rifugio in questa fase, l'unica cosa è che il dollaro essendo così forte frena un po' il gold, vedremo se il dollaro mollerà, in questa fase per me ancora questo è solo uno storno, andiamo col pennino, secondo me fino a 1695 e poi fino a 1725 il mercato fa solo degli storni per poi provare ancora una nuova fase ribassita per il momento. Solo rottura al di sopra di 1725, allora potrebbero dare un po' di boost, un po' di forza per quanto riguarda il gold e magari rivederlo nella fase un pochino più in alto, verso 1805 su queste aree qui. Però altrimenti queste sono solo delle storne, delle correzioni, possiamo vedere anche molto bene da un grafico settimanale, vedete che ancora il mercato deve vedere qualcosa di più interessante per provare a uscire da questi minimi sempre più crescenti e massimi che sono sempre più decrescenti queste cose, le vediamo anche in Trading Winner. Comunque questo per quanto riguarda il gold, quindi due resistenze in questa area e i supporti che sono un po' più sotto, verso 1639, 1603 eccetera eccetera. Andiamo avanti con il DAX, vi ricordo martedì il nostro super webinar con i G, vi mettiamo il link qui sotto, ore 18, per essere insieme e parlare un po' di trading, soprattutto per chi lavora a poco tempo e vuole comunque fare trading in maniera profittevole. Il DAX che ha toccato questo supporto a 11.866, ha bucato i minimi dell'anno, questo già era accaduto settimana scorsa e infatti il mercato ha allungato pesantemente ancora a ribasso, ha provato a recuperare qualcosa nell'area di 12.390, ma poi le discese sono state più forti, i short sono venuti fuori e il mercato è venuto ancora giù. Per il momento sul daily, quindi la nostra area è a 12.390 come resistenza, prima non vedo nulla a livello di resistenze interessanti sul settimanale, come analisi settimanale, ma vedo dei supporti a 11.866 che è il minimo della settimana, vedremo se il mercato proverà a reagire e a fare qualcosa. Visto che l'avevamo dato anche settimana scorsa a 11.880, ha tenuto abbastanza bene, infatti già nella giornata di mercoledì c'era stato un forte rimbalzo. Adesso vedremo se terrà ancora, poi abbiamo 11.660, 11.480, questi sono un po' i supporti del DAX, trend assolutamente ribassista, come ripetevo anche in pieno agosto quando molti di voi mi hanno anche detto che non capivo nulla, che il mercato ha finito di scendere, poi abbiamo visto i risultati in questa settimana dove tutta questa roba qua è stata tutta una discesa unica, quindi come vi ho detto settimana scorsa non innamoratevi dei mercati ma pensate a utilizzarli senza nessun tipo di sentimento, ma a corpo freddo, a mente fredda va analizzato il mercato e poi fatta la nostra operatività. Non innamoratevi mai di titoli, indici, non vi dovete innamorare, per tutto il resto ci sono le donne, per noi uomini, innamoratevi di loro, i mercati lasciateli in pace per una volta. Allora, euro-dollaro invece, euro-dollaro situazione, situazione che il mercato ha visto in maniera positiva da mercoledì, perché il dollaro ha mollato un pochettino, siamo arrivati a dei supporti interessanti che sono a 95,35, 96,39 e adesso vedremo un po' se il mercato proverà a reggere di nuovo. Qui vi avviso già che a 98,70 e 99,69 ci sono già due forti resistenze, e quindi sarà un bella tosta per euro-dollaro e poi a 1,01 e 11 abbiamo qualcosa di più importante. Quindi la fase ribassista potrebbe un po' terminare se dovessimo tornare sopra 1,01 e 11, magari poi tornare fino a 1,03. La vedo abbastanza complessa per il momento. Iniziamo a vedere i test qua, cosa farà 0,99, 69, 0,98, 72 e altrimenti questo è comunque un trend ribassista, questi sono storni per poi il mercato ancora riprovare a venire giù. Speriamo di no per la moneta unica, dai, facciamo un po' il tifo, però poi dobbiamo essere, come vi dicevo prima, imparziali. Nasdaq è il mercato prollato, siamo praticamente ai minimi dell'anno, leggermente bucati, siamo praticamente a 11.000 di cash, Nasdaq, adesso c'è ancora spazio per venire giù verso i 10.800, con questa volatilità potremmo farcela veramente in pochissime candele perché ci si muove ormai di 100 punti a botta, infatti i livelli sono molto larghi proprio perché la volatilità è molto, molto alta. Secondo supporto 10.550 è supporto un pochino più importante, a livello annuale 10.180, quindi vedremo un po' quello che succederà. Forte resistenza a 11.496, 11.718, dove il mercato continua a fare un po' da muro nelle ultime settimane e la situazione dovrebbe calmarsi solo sopra 12.240, dove potremmo vedere un rallentamento di questi short molto forti. Andiamo avanti con il petrolio, petrolio che rimane ribassista, ha corretto un pochettino nella giornata di martedì e di mercoledì, nulla di che perché già nella giornata di giovedì abbiamo avuto delle discese, tra l'altro anche con una bella tecnica che utilizziamo nel nostro percorso Trading Winner, dove c'era una bella resistenza, il rischio è molto piccolo e il mercato è venuto giù in maniera abbastanza importante, visto che sono scesi di un paio di dollari le quotazioni del petrolio, quindi questo è quanto per il petrolio, trend ribassista, vedremo solo eventuali correzioni serie, quindi un cambiamento un pochino di trend, secondo me è solo sopra, solo qua sopra, scusate il gioco di parole, è sopra 87.32, dove vedremo magari un cambio di trend un pochino più evidente, per il momento sono solo correzioni di un trend ribassista. S&P 500, bucati minimi anche per lui, in maniera ufficiale, visto che viene riacchiuso sotto, cosa dire, è un po' la situazione degli stessi indici, il mercato ha ancora spazio per scendere, abbiamo un supporto abbastanza di breve, 3.550, mentre il vero supporto per la settimana credo che sarà 4.29 ed eventualmente 3.280, non credo che arriveremo fino a 3.280, altrimenti sarebbe un bel panic selling per tutta la settimana, anche perché sarebbe un movimento abbastanza importante, sarebbe un meno 8, per vederlo sull'S&P 1-8 vuol dire che siamo in panico completo, quindi vedremo un po', supporti abbastanza distanti. Resistenza invece a 7.36 confermata, che l'abbiamo già visto a mercoledì, e poi a salire 3.850, anche qui a mio avviso, finché non ci rimettiamo qua sopra, 3.942, almeno queste fasi sono solo correzioni per poi provare a scendere, quindi attenzione ancora all'S&P. Cable, 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 è successo di tutto sul cable, c'è stata una manovra da parte della banca centrale inglese, che è andata a ricomprare i suoi bond per togliere un po' di tensione sulla sterlina, che stava iniziando a essere preoccupante. Per il momento la manovra sembrerebbe aver fatto sì che i minimi siano stati visti, ma attenzione perché siamo a 1.1260 come resistenza molto importante e siamo veramente al bivio, nel senso che se il mercato dovesse rimettersi sopra, 1.1260, 1.1430, allora potremmo dire che un po', non dico che la discesa è finita, ma almeno un po' allentata, ma fino a che siamo in questa zona qui, attenzione a nuovi colpi di scena al di sotto, almeno fino a magari 1.10 e poi 1.0770, quindi attenzione a darla per morta questa discesa della sterlina, io starei un po' alla larga, la volatilità è molto alta, pericolosa e la banca centrale inglese per il momento sembrerebbe aver risolto un attimo, però attenzione perché non c'è un bel clima a livello inglese tra banca centrale inglese e governo, quindi attenzione un po' ancora a colpi di coda, magari ancora ribassista, della sterlina. Dollar o Canada invece vola, naturalmente abbiamo sempre detto che questo è un indice al contrario, quando gli indici salgono Dollar o Canada tende a scendere e al contrario quando gli indici scendono Dollar o Canada è sempre pronto un po' a sparare supporto strepitoso qua a 36.15 che dà ancora manforte a questi rialzi, abbiamo una resistenza vicina e poi 48.28 per chiudere un po' questo target bello rialzista per quanto riguarda Dollar o Canada, trend che può cambiare solo al ritorno qua sotto di 1.3360 e eventualmente notizie su indici borse mondiali, quindi questo per quanto riguarda Dollar o Canada, Mib che prova un po' a tenere i minimi dell'anno ma non sembrerebbe anche lui ben impostato naturalmente come tutti gli indici, quindi trend ribassista, correzioni evidenti potrebbero essere solo sopra 21.560, altrimenti solo storni per continuare questa fase ribassista. io rientro qua con la mia super maglietta I am OG Trader è veramente stata una bellissima, credo, analisi della domenica, come sempre potete scriverci sotto se siete degli OG Trader, se avete seguito fino alla fine l'analisi scrivetemelo qua sotto perché settimana scorsa, devo dire la verità, mi avete veramente caricato e citato a mille per far sempre questa analisi e perché no, dare sempre spunti operativi a tutti voi. quindi vi abbraccio, vi auguro un grande inizio di settimana e avanti tutta winner!